La cosa più bella è stata quando l'abbiamo sentito piangere lì, perché quando spingeva magari trattenevamo il fiato quando l'abbiamo sentito piangere, dopo è stata una liberazione un po' per tutti. È stata un'emozione incredibile, vero? Un'emozione molto molto forte, dobbiamo ammetterlo. Lunedì sera, mentre eravamo in turno di emergenza, siamo stati attivati per questo parto. Ci hanno mandato in Capolona, abbiamo fatto un rendezvous con l'automedica che era già presente sul posto, nel posteggio di Obimbo. Siamo partiti immediatamente alla volta del San Donato di Arezzo. Il liatevento si è verificato circa un paio di minuti dopo, non siamo riusciti ad arrivare in ospedale, però è andato tutto bene. Per una donna è un'emozione molto forte, vedere che il bambino ha risposto subito, quindi era in salute e il fatto che arrivati in pronto soccorso erano entrambi tranquilli, è stata un'emozione comunque molto forte. Siamo preparati perché studiamo eccetera, però impreparati per l'emozione. Una bella responsabilità guidare un'ambulanza in queste situazioni. Io non mi sono accorto niente perché io guidavo, mi hanno chiamato loro dal vanno sanitario che la signora stava proprio partorendo, quindi siamo fermati sul ciglio della strada. Fortunatamente è stata bravissima e fortunata la signora probabilmente perché il bambino è uscito subito. Avete visto il periodo particolare concitato, un liatevento così ci rallegra e ci dà la forza e l'emozione di continuare sempre un lavoro in maniera professionale ed in perterrita. Grazie. Grazie. Grazie.